Un periodo difficile per gli agricoltori e allevatori, quali cercano di rimanere a galla nonostante gli aumenti dei prezzi e molto altro. Si cercano alcune strade per non arrivare con l'acqua alla gola e rischiare di dover chiudere l'attività. È la direzione in cui va la PAC, la politica agricola comune, che dovrebbe aggiorare il comparto, ma alcuni non la pensano così. È il caso di Battista Caterini, allevatore, che si trova a dover fare i conti con una politica comunitaria, un governo nazionale e regionale, come sottolinea lui stesso, assenti, ma soprattutto si sofferma sulla mancanza di tutela per i lavoratori nei tavoli da parte dei sindacati. E non finisce qui perché ad oggi bisogna pure fare i conti con la siccità. L'allevatore è un mestiere che si fa per passione, però sta venendo meno anche questo per tantissimi problemi della burocrazia e soprattutto per far quadrati i conti. La PAC è un sostegno al reddito che invece è stata data negli anni passati a chi non ha prodotto e non produceva niente, a discapito dei veri allevatori. La nuova PAC è peggiorata perché ha tolto dei fondi e alla fine se togli i fondi ci può anche stare, però diciamo almeno quelli che ti spettano ci devono essere erogati. Quest'anno è stato un anno particolare riguardo alla siccità che le aziende, come la mia e tante altre aziende, hanno per far sopravvivere il greggio, hanno speso molto, molto di più. In questi giorni stanno arrivando i pagamenti e alcune aziende non sono rientrate perché i nostri sindacati non hanno fatto il suo dovere, il loro dovere, andare a Roma al Ministero a battere i pugni dicendo quale cosa sta così, non come dicono loro perché a Roma non sanno che cosa è l'agricoltore. Ci sono aziende che in questi giorni non stanno percependo i soldi dovuti e già le spese della basicità, questi soldi che non ci arrivano, non lo so se l'anno prossimo la mia azienda o le altre aziende riescono a stare in vita. Sono deluso dalla politica regionale e nazionale e soprattutto dei nostri sindacati che fanno ben poco per risolvere questi problemi. Inoltre anche i ritardi nelle comunicazioni per quanto riguarda la PAC doveva essere consegnato un dato il primo di gennaio per agevolarvi. Certo, è su questa cosa che sono molto deluso e molto arrabbiato perché per prendere questi soldi ci hanno dato un dato il 10 marzo 2024 quando ci doveva essere dato il primo gennaio 2023. Dopo un anno io non lo so come mi devo comportare durante l'anno se non ho un dato a cui fare riferimento.